Vangelo secondo Marco questa mattina, Vangelo secondo Marco, leggerò dal versetto 14 al versetto 20, Vangelo secondo Marco capitolo 1 dal versetto 14 al versetto 20. Marco scrive dopo che Giovanni fu messo in prigione Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino ravvedetevi e credete al Vangelo. Mentre passava lungo il mare di Galilea egli vide Simone e Andrea fratello di Simone che gettavano la rete in mare perché erano pescatori, Gesù disse loro seguitemi e io farò di voi dei pescatori di uomini. Essi lasciate subito le reti lo seguirono, poi andando un po' più oltre vite Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni e suo fratello che anch'essi in barca rassettavano le reti e subito li chiamò ed essi lasciato Zebedeo loro padre nella barca con gli operai se ne andarono dietro a lui. Vangelo secondo Marco un libro storico che parla di Cristo, della sua opera, del suo insegnamento, della sua morte per peccatori e della sua risurrezione. Marco inizia con questo versetto 14 a parlare del ministero di Gesù. Nei primi 13 versetti che abbiamo studiato nei dettagli nelle scorse domeniche Marco ha parlato del ministero preparatore di Giovanni Battista. Giovanni che ebbe un ruolo davvero fondamentale nel precedere Gesù, Giovanni Battista che ha introdotto il Vangelo, la buona notizia che riguarda la salvezza possibile in Cristo. Attraverso i primi otto versetti abbiamo compreso tre cose essenzialmente, la necessità del perdono dei peccati, la necessità per ogni uomo del perdono dei peccati. Ecco come introduce Gesù, il Vangelo, rappresentando questa necessità, non solo. Un secondo aspetto importante è questo, la necessità del ravvedimento, del pentimento. Ecco come prepara la via del Messia, ecco come introduce questa buona notizia, ovvero la salvezza possibile in Cristo, ma la necessità del ravvedimento, del pentimento. E poi, terzo ultimo aspetto, la necessità di credere in Gesù perché lui è la buona notizia. Giovanni inizia presentando Gesù colui che è superiore a lui, che avrebbe battezzato con lo Spirito Santo. È lui il Salvatore, è lui la buona notizia. Introduce quindi questo Vangelo, questo libro storico presentando questi tre aspetti fondamentali. Predicare il Vangelo significa predicare la buona notizia, la salvezza possibile in virtù di Cristo, ma come è possibile beneficiare del Vangelo. È fondamentale ravvedersi e riconoscere i propri peccati, abbandonarli e riporre la totale fiducia in Cristo. Infatti, Marco, dal versetto 9 al versetto 13, prima di iniziare a parlare di Gesù specificamente nel suo ministero, ci ricorda due eventi straordinari, il battesimo di Gesù e la tentazione. Il battesimo di Gesù, Gesù che si identifica con i peccatori, Gesù non ha necessità di ravvedersi, Gesù è perfetto, ma si identifica con i peccatori e dopo che si battezzò, vide l'ospito scendere su di lui. Qui vediamo un evento straordinario, la testimonianza della messia in città di Gesù. Come abbiamo letto in Isaia, era chiaro che Gesù era il Messia perché è disceso l'ospito santo su di lui, questo identificava Gesù come il Messia promesso nell'Antico Testamento. Lui era il Messia promesso nell'Antico Testamento, ma non solo una voce dal cielo che disse tu sei il mio diletto figlio in te, mi sono compiaciuto, Dio che parla dal cielo, il padre e descrive Gesù come suo figlio. Il figlio di Dio per natura, ovvero Gesù è Dio incarnato, non è diventato figlio come noi credenti adottati in Cristo, ma è per natura figlio amato e dice in te, mi sono compiaciuto, il padre che ha provato il figlio. Questo è un evento importante per identificare che Gesù era il Salvatore, che Gesù è il Salvatore. Poi la tentazione di Gesù nel deserto, tentato per 40 giorni da Satana. Gesù che si umilia, mette da parte la sua potenza temporaneamente i suoi privilegi e tutto questo per la nostra redenzione e dimostra in quella tentazione della sua autorità e potenza su Satana. È lui che avrebbe trionfato su Satana e che avrebbe redento e salvato peccatori dalla morte. Con questa introduzione, questi 13 versetti, Marco ci presenta Gesù come l'unico Salvatore. Buona notizia! Ed ecco perché la necessità del ravvedimento di riporre la fiducia in Cristo. Abbiamo visto domenica scorsa che Gesù è il solo Salvatore non per nostra scelta personale, preferenza religiosa o motivo della cultura in cui viviamo, ma perché Gesù storicamente ha manifestato di essere il Messia promesso. Lui è il figlio di Dio, Dio incarnato, questa voce dal cielo che testimonia di ciò, questo Spirito Santo che scese su di lui, Gesù che ha l'autorità, la potenza su Satana. È lui il Vangelo. Marco prosegue ora dal versetto 14, qui inizia a parlare del ministero di Gesù, il ministero in Galilea di Gesù. E come inizia il suo ministero? Parlare del suo ministero? In che modo inizia? E parla di due temi che caratterizzarono il ministero di Gesù, due temi fondamentali che caratterizzarono il ministero di Gesù. Il primo tema è questo, la predicazione di Gesù, la sua predicazione. Il secondo è questo, i discepoli di Gesù, la chiamata al discepolato. Sono due cose che caratterizzarono il suo ministero. Abbiamo certamente qui un breve riassunto della sua predicazione e di questa chiamata al discepolato da parte di Gesù. Ma Marco nel parlare del suo ministero si focalizza, prima di ogni cosa, su questi due aspetti importanti. E vedremo attraverso questi due aspetti quella che l'autorità di Gesù come il Messia è il figlio di Dio. Nella sua predicazione, nella chiamata al discepolato, Gesù manifesta che lui è l'autorità, che lui è il che lui è il figlio di Dio. Iniziamo subito con i primi due versetti dal 14 al 15, la predicazione di Gesù. La predicazione di Gesù. Marco scrive letteralmente, ora dopo che Giovanni fu consegnato, ovvero fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea. Qui Marco specifica quando Gesù si reca in Galilea, quando Giovanni il Battista fu messo in prigione, letteralmente fu consegnato. Marco parlerà di Giovanni il Battista al capitolo 6, versetto 14, è lì che spiegherà perché Giovanni il Battista fu messo in prigione, ma ora si focalizza su questo evento brevemente per specificare quando Gesù si recò in Galilea, iniziando il suo ministero in Galilea. Si spostò proprio a motivo dell'arresto di Giovanni. Il Battista in Marco, in Matteo 4, 12, anche Matteo parla di ciò. Giovanni l'Apostolo invece aggiunge un altro piccolo dettaglio che vorrei leggere in Giovanni, Giovanni capitolo 4, questo è quello che leggiamo, primi versetti, quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano dito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava mai i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. In questo capitolo 3, versetto 22 parla di questo ministero di Gesù in Giudea, proprio in parallelo al ministero di Giovanni il Battista. Gesù iniziò il suo ministero in Giudea e poi si sposta in Galilea, quando venne a sapere che i farisei avevano dito che battezzava, i suoi discepoli battezzavano più di Giovanni, e dopo che fu consegnato, messo in prigione, Gesù si sposta dalla Giudea in Galilea e Marco inizia proprio con questo ministero in Galilea, si sposta in Galilea lontano dal centro religioso di Gerusalemme, lontano dai farisei e dai sacerdoti. Marco inizia parlando di questo ministero in Galilea, la parte nord della terra di Israele. Ma in cosa consisteva il suo ministero? Perché Marco ora parla del suo ministero e prima di ogni cosa si focalizza sulla sua predicazione. È vero, molto importante questo. Se andiamo al versetto 38 del capitolo 1, molti andavano da lui per essere guariti dalle malattie, scacciò molti demoni. Versetto 38 dice, e gli disse loro ai discepoli, andiamo altrove per i villaggi vicini affinché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. La sua venuta centrata proprio sulla predicazione. Questo c'era al centro del suo ministero e Marco desidera, riassumendo, evidenziare che al centro del suo ministero c'era la predicazione. Dice infatti, si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio. Ministero focalizzato sulla proclamazione del Vangelo di Dio. Questo era il messaggio centrale della sua predicazione, il Vangelo di Dio. Questo è quello che Gesù fece in diversi luoghi in Galilea. Proclamava, predicava il Vangelo di Dio, questa terminologia che troviamo anche in altri brani. Per esempio in Romani capitolo 1, versetto 1, Paolo utilizza questa stessa terminologia. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio. Capitolo 15, versetto 16, la stessa identica cosa. Ministro di Gesù Cristo tra gli stranieri esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio. e molti altri brani, anche in 1 Pietro 4, 17. Il Vangelo di Dio. Il termine Vangelo sappiamo già si riferisce alla buona notizia, alla buona novella, la buona notizia di Dio che origina da Dio e che riguarda Dio, la sua grazia, la sua misericordia, la salvezza possibile in Cristo. Il messaggio di Gesù era focalizzato sul Vangelo di Dio, sulla buona notizia che riguardava Dio, la sua grazia, il suo amore, la salvezza possibile in virtù di Cristo. Non solo, il mezzo per diffondere il Vangelo è sempre stato lo stesso, la predicazione. Davvero molto importante perché vediamo che Gesù predicò, proclamò il Vangelo di Dio. Questo termine è predicare, proclamare, che troviamo in molti altri brani, non possiamo leggerli tutti, ma secondo Timotio 4, 2, Paolo usa quel termine, predica la parola quando istruisce ed esorta Timotio. In Romani capitolo 10 e nel segnale, la Chiesa che cresce fondata grazie alla predicazione, il mezzo è sempre stato lo stesso, predicare, proclamare, annunciare. Il messaggio è sempre stato lo stesso, il Vangelo di Dio. Questo è il compito della Chiesa oggi. Proclamare, predicare il Vangelo di Dio, focalizzarci sulla predicazione del Vangelo di Dio, non su attività, non su cose che piacciono agli uomini, mettendo da parte la predicazione del Vangelo. Questa sapete è la tendenza nel mondo oggi, nel mondo evangelico, di mettere da parte la predicazione. E qui vediamo che Marco si focalizza, riassume quello che Gesù fece, dicendo che predicò il Vangelo di Dio. Questo c'era al centro, ecco perché la Chiesa predica il Vangelo di Dio, istruisce, proclama. Marco non si ferma qui, perché al versetto 15, ci specifica ulteriormente cosa caratterizzava la sua predicazione. Predicò il Vangelo di Dio, ma aggiunge qualcosa, dice, predicando il Vangelo di Dio e dicendo tre cose. Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino, e poi ravvedetevi e credete al Vangelo. E predicare il Vangelo di Dio, la buona notizia della salvezza possibile in virtù di Cristo, ci sono tre cose che Gesù mise in luce. La prima è questa, il tempo è compiuto. A cosa si riferisce qui? Il tempo è compiuto. Qui si riferisce al tempo della sua venuta. Il tempo della venuta del Cristo promesso nell'Antico Testamento è compiuto. Questo era il momento cruciale del piano di redenzione, la venuta del Messia promesso nell'Antico Testamento. Era lì presente, era giunto. L'apostolo Paolo parla in modo simile in Galati, capitolo 4, versetto 4. Ascoltate quello che dice ma quando giunse la pienezza del tempo Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge per riscattare quelli che erano sotto la legge affinché non ricevessimo l'adozione. Quando giunse la pienezza del tempo Dio mandò suo figlio. Ecco, la venuta di Gesù corrisponde alla pienezza del tempo nel piano di Dio. È il momento chiave della storia salvifica. Cristo è giunto. Il tempo è compiuto. Poi aggiunge una seconda cosa, è il regno di Dio è vicino. Non solo il tempo è compiuto, Cristo è venuto. Il regno di Dio è vicino. Questo è quello di cui parlò anche Giovanni Battista, se ricordate, Matteo 3, 2. Qui parla del regno di Dio. Cosa si riferisce? Il regno di Dio. Di quale regno sta parlando qui Gesù? Troviamo questa terminologia, una simile terminologia in questo stesso libro, per esempio al capitolo 11. Capitolo 11, versetto 10. 11, versetto 10. Gesù entra qui a Gerusalemme, questo ingresso trionfale, versetto 9. Coloro che andavano avanti, coloro che venivano dietro e gridavano Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene, il regno di Davide, nostro padre Osanna, nei luoghi altissimi, perché si riferisce al regno messianico promesso nell'Antico Testamento. Il regno messianico di cui si parla nell'Antico Testamento, al capitolo 14, versetto 25. 14, 25. La cena del Signore che Gesù istituisce. Il versetto 25 disse, in verità, vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio. Il regno messianico promesso nell'Antico Testamento. Questo regno, dice, è vicino. In che senso? Era vicino nella persona, nell'opera di Cristo. Gesù, il Messia, il re, era presente di conseguenza, il regno era vicino. Gesù personifica questo regno. Promesso nell'Antico Testamento, il re era lì, presente in mezzo a loro, ma è importante però considerare che si parla del regno di Dio in questo stesso libro, però in riferimento anche a qualcos'altro. Voglio mostrarvi ciò. Al capitolo 4. Capitolo 4, Gesù parla in parabole. Capitolo 4, versetto 26. Diceva ancora, il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma e si alzi, la notte e il giorno il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come la terra da se stessa, dà il suo frutto, prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. Il frutto è maturo, subito il metitore vi mette la falce perché l'ora della metitura è venuta. Diceva ancora, a che paragonerò il regno di Dio e con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un graneno di senabe, il quale quando lo si è seminato in terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Quando è seminato cresce e diventa più grande di tutti i legumi e fa dei rami tanto grandi che all'ombra loro possono ripararsi gli uccelli del cielo. E qui comprendiamo che il regno si riferisce ad una realtà spirituale, la salvezza, il regno di Dio salvifico. Anche al capitolo 10, anche al capitolo 10, quando parla dei bambini, li presentarono, versetto 13, li presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridava coloro che glieli presentavano. Gesù veduto ciò si indignò e disse loro, lasciate che i bambini vengano da me, non glielo vietate perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro. Anche qui si riferisce ad una realtà spirituale. Certo il regno messianico promesso nell'Antico Testamento, ma al presente non c'è ancora questo regno messianico, ma c'è questo regno spirituale. E non ci stupisce che anche nelle lettere si parla di questo regno di Dio spirituale? Per esempio, in Colossesi, Colossesi, potete ascoltare Colossesi capitolo 4, capitolo 4, versetto 11, qui parla dei suoi collaboratori, gli dice questi provengono dai circoncisi e sono gli unici che collaborano con me per il regno di Dio e che mi sono stati di conforto. Qui si riferisce alla sua proclamazione del Vangelo. Proclamare il Vangelo significa proclamare il regno di Dio spirituale, la salvezza nel cuore dei credenti. E infatti al capitolo 1 di questa lettera, versetto 13, dice Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Ci sono anche altri versetti che parlano di ciò, Romani 14, 17, Prima Corinzi 4, 20. Il regno di Dio è una realtà futura, questo regno messianico promesso nell'Antico Testamento, ma al presente è una realtà spirituale. Questa salvezza, questa opera salvifica di Dio nel cuore dei credenti. Gesù quindi mette in luce che il tempo è compiuto, è giunto il Messia, il re promesso nell'Antico Testamento. Il regno di Dio è vicino nella persona di Cristo, nella sua opera, ma non solo annuncia che il regno è vicino, ma chi sono coloro che partecipano a questo regno di Dio, che partecipano a questo regno spirituale e al regno futuro del Messia? Chi sono? Gesù parla di un terzo aspetto importante. Dice ravvedetevi e credete al Vangelo. Due imperativi. Due imperativi. Qui esorta fortemente la gente a fare due cose essenziali. Ravvedersi, ovvero pentirsi e credere nel Vangelo letteralmente. Prima cosa, ravvedersi. Nel predicare il Vangelo esorta le persone a ravvedersi e abbiamo visto che si riferisce il ravvedimento non semplicemente una tristezza a motivo delle proprie mancanze, ma un cambiamento della propria mente a un nuovo modo di pensare. significa avere la volontà di abbandonare i propri peccati, di voltarsi dalla parte opposta. Questo è il ravvedimento. Ecco chi sono coloro che entrano nel regno di Dio, coloro che si ravvedono, che si pentono dei propri peccati e che desiderano abbandonare quei peccati. Non solo predica quindi il Vangelo di Dio, ma esorta, chiama al ravvedimento per beneficiare del Vangelo. Questa sua predicazione includeva la chiamata al ravvedimento. Questo è quello che fece Gesù e questo è quello che dovremmo fare noi. Sapete, è molto triste perché al presente questo non accade molto spesso. Si predica il Vangelo dell'amore di Dio, ma non si chiama al ravvedimento. Anzi, anzi, si rifiuta di fare ciò pensando che l'uomo possa accogliere il messaggio di più se non parliamo del ravvedimento. Ma questo è totalmente falso. Talvolta si dice che siamo insensibili e conseguenza Gesù era insensibile. Gesù predicò il Vangelo e chiamò al ravvedimento perché è l'unico modo per giungere alla buona notizia, per comprendere l'amore di Dio e riconoscere i propri peccati. Gesù esortò al ravvedimento e non solo, ma esorta a credere nel Vangelo. Credere! Ora qui non significa semplicemente riconoscere la verità del Vangelo e non significa semplicemente accettare questa verità del Vangelo, Gesù esorta a credere, ovvero esorta a rispondere a questa chiamata riponendo la propria totale fiducia nel Vangelo, in Cristo. La fede di cui parla è un impegno personale totale nel Vangelo, in questo messaggio che riguarda a Cristo la sua opera redentrice, ribadisco, non è semplicemente un'affermazione, non è riconoscere la verità del Vangelo, anche i non credenti riconoscono ciò, chi più chi meno, ma significa totalmente riporre la propria fiducia in Cristo. questa fiducia totale include il ravvedimento, sono due verità strettamente legate, fratelli e sorelle. senza un genuino ravvedimento, senza un genuino ravvedimento, non ci può essere una fede servifica, ma solo una forma di religiosità. lo ripetisco, senza un genuino ravvedimento, non può esserci fede servifica, ma solo una forma di religiosità. Allo stesso modo, senza una fede genuina, non ci può essere un reale ravvedimento, ma solo puro moralismo. Detto in altre parole, una fede senza ravvedimento produce una fede religiosa. Un ravvedimento senza fede produce moralismo. La fede e il pentimento sono due verità strettamente legate e connesse. E Gesù predicò in questo modo, chiamando il ravvedimento ed esoltando a riporre la propria fiducia nel Vangelo. Questo è il modo in cui Gesù, l'Evangelista per eccellenza predicò. Dovremmo seguire il suo esempio. Come Chiesa, predicare il Vangelo di Dio, chiamando al ravvedimento e riporre la fiducia nel Vangelo. Non usiamo la sensibilità umana, e direi carnale, per annullare questa predicazione. L'Apostolo Paolo in Romani 10 mette in evidenza quanto è fondamentale predicare il Vangelo, il vero Vangelo, l'unico mezzo per la salvezza. 10-14 Ora come invocheranno colui nel quale non hanno creduto, e come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare, e come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi, chi predichi, e come annunzieranno se non sono mandati. Versetto 17, così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Dio che dona la fede a coloro che odono il Vangelo di Dio. ecco perché proclamare il Vangelo di Dio. Perché attraverso quella proclamazione Dio opera e rigenera, e conduce la fede servivita. Questo quando c'è una fedele predicazione, proprio come Gesù, che predicò il Vangelo di Dio, chiamando il ravvedimento della fede del Vangelo. Marco non solo parla però della sua predicazione, c'è un altro tema che caratterizzò il suo ministero di Gesù, i discepoli di Gesù, i discepoli, la chiamata al discepolato. Marco parla qui di quattro discepoli chiamati da Gesù, senza molti dettagli, ma molto importanti questi versetti perché manifestano l'autorità di Gesù. Manifestano la sua autorità come il Messia, il figlio di Dio. Versetto 16 E passando lungo il mare di Galilea, qui si riferisce al lago di Galilea, mare perché era molto grande, un lago importante per l'industria della pesca, un lago molto grande, Gesù passando lungo questo lago vide Simone, vide Simone, che poi chiamerà Pietro in Marco 3,16, Simone, il nome greco che deriva dal nome ebraico Simeone, e poi Andrea, suo fratello. Gesù conosceva già Simone e Andrea, se leggiamo in Giovanni 1, dal 35 al 42, Gesù già conobbe Simone e Andrea in Giudea, ma dopo del tempo passò lungo il mare di Galilea e vide questi due fratelli, stavano gettando la rete in mare perché erano pescatori, questa rete circolare molto larga per pescare, questa era la loro attività lavorativa, lavorativa, stavano lavorando e nel versetto 17 leggiamo che Gesù disse loro seguitemi, seguitemi e io vi farò diventare pescatori di uomini, seguitemi e io vi farò diventare pescatori di uomini, questo non era un invito, non era un invito, ma con autorità Gesù disse loro di seguirlo e di abbandonare la loro attività lavorativa, qual era lo scopo per farli diventare pescatori di uomini, ovviamente parla in modo metaforico, Gesù li avrebbe fatti diventare, li avrebbe addestrati, istruiti per diventare pescatori di uomini, ovvero predicare il Vangelo per la salvezza degli uomini, non più pescatori di pesci, ma di uomini, li avrebbe istruiti e formati per essere predicatori per una nuova attività. Gesù chiama questi due discepoli con autorità, avranno un ruolo specifico certamente come apostoli, ma questa chiamata al discepolato illustra la chiamata spirituale che Gesù rivolge a tutti, se leggiamo per esempio in Marco 8, che vedremo fra un attimo, 8, 34, chiamata se la folla con i suoi discepoli disse loro se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, ha chiamata ad essere discepoli che Gesù rivolse a tutti. Specificamente riguardo a Simone e Andrea, Gesù chiama loro due ad essere suoi discepoli e apostoli, come vedremo, vediamo qual è stata la loro risposta, come hanno risposto a questa sua chiamata, versetto 18, letteralmente dal testo greco, e immediatamente lasciate le reti lo seguirono, e immediatamente lasciate le reti lo seguirono, una risposta immediata, Simone e Andrea che lasciano le reti, ovvero lasciano la loro attività lavorativa, non significa che vendetero ogni cosa anche perché al versetto 29 Giacomo e Giovanni sono in casa di Simone e di Andrea, avevano una casa che non hanno venduto, ma qui si riferisce al fatto che abbandonarono la loro attività lavorativa, non significa che vendetero ogni cosa, ma lasciarono la loro attività lavorativa, erano disposti a fare ciò per essere da lui addestrati come pescatore di uomini, questa risposta immediata cosa manifesta? Manifesta la loro bravura, manifesta l'autorità di Gesù, la sua potenza Gesù era la causa della loro immediata risposta, è una risposta umanamente scioccante, lasciarono subito le reti e lo seguirono, questa chiamata divina risposta dall'uomo come frutto della chiamata di questa potenza e autorità di Gesù, questa risposta istantanea che manifesta l'autorità del Messia, il figlio di Dio, ma dal versetto 19 Gesù prosegue andando un po' più oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, altri due fratelli, pescatori, figli di Zebedeo, figli di Zebedeo, probabilmente la moglie di questo uomo è Salome, come leggiamo in Marco 15-40 e Matteo 27-55, attraverso diversi brani comprendiamo che sua moglie era Salome, la quale era probabilmente la sorella della madre di Gesù, Giovanni, 19-25, ci mostra in modo indiretto ciò, di conseguenza Giacomo e Giovanni erano cugini di Gesù, anche loro stavano lavorando in barca, rassettavano le reti, termine che significa anche riparare le reti, prepararle per la prossima pesca, questa era la loro attività lavorativa e qui leggiamo che immediatamente li chiamò, chiamò anche questi due fratelli, immediatamente li chiamò, qual è stata la loro risposta? Come hanno risposto? e lasciato il loro padre Zebedeo nella barca con gli operai andarono dietro a lui, lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con gli operai andarono dietro a lui, la stessa risposta, la stessa immediata risposta, avevano una prosperosa attività, d'altronde Zebedeo aveva degli operai, le servi a pagamento, questa risposta umanamente scioccante, abbandonano il loro padre, non significa che disonorarono il loro padre, ma lasciarono l'attività lavorativa, non si parla della reazione di Zebedeo che chiaramente ebbe un impatto questa loro volontà di lasciare l'attività lavorativa sul loro padre, ma questo è quello che accade, Gesù chiama questi due discepoli, lasciano delle reti, lasciano questa attività lavorativa per seguire Gesù e andarono dietro a Lui. Ecco l'autorità di Gesù che si manifesta nel chiamare questi discepoli. Giovanni, l'Apostolo Giovanni parlerà di ciò nel suo Vangelo in Giovanni 15 se ricordate, questo è esattamente quello che disse qui Gesù che parla certamente Giovanni che ricorda ciò che Gesù disse, Giovanni 15 16 non siete voi che avete scelto me ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate portiate frutto e il vostro frutto rimanga affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome egli ve lo dia. Ecco la sua autorità, Lui ha scelto l'oro per produrre frutto per proclamare il Vangelo per la salvezza di molti attraverso loro come strumenti questa chiamata al discepolato illustra quella che è la chiamata divina la potenza di Gesù la sua autorità che produce una risposta sorprendente chiara e netta questa risposta di questi discepoli alla chiamata di Gesù l'enfasi non è sulla loro bravura ma è sull'autorità di Gesù anche al capitolo 2 versetto 14 parlava di Levi Matteo seduto al banco delle imposte versetto 14 e gli disse seguimi ed egli alzatosi lo seguì lo seguì la risposta di questi uomini è spiegabile solo la luce dell'autorità e della potenza di Gesù di questo parlerà d'altronde Marco descrivendo Gesù il suo ministero versetto 22 parlerà della sua autorità nell'insegnamento essi si stupivano del suo insegnamento perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi versetto 26 Gesù che scaccia i demoni e lo spirito immondo straziandolo e gridando forte uscì da lui perché Gesù comandò ciò versetto 34 egli ne guarì molti che soffrivano diverse malattie e scacciò molti demoni e non permetteva loro di parlare perché lo conoscevano la sua autorità di scacciare demoni guarì malattie versetto 34 e poi capitolo 2 versetto 10 quando Gesù disse ma affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati l'enfasi è sulla sua autorità chi è Gesù colui che ha autorità di chiamare i discepoli i quali rispondono alla sua chiamata di perdonare i peccati di scacciare i demoni di guarire dalla malattia e di predicare con autorità a differenza degli scrivi questo è quello che testimonia questa chiamata di questi quattro discepoli Simone e Andrea e Giovanni e Giacomo Marco in questi versetti che abbiamo visto questa mattina inizia parlando del ministero di Gesù e si focalizza su due temi importanti la sua predicazione e sui discepoli inizia parlando della predicazione l'essenza della sua predicazione predicò il Vangelo di Dio quale esempio? un contenuto specifico il Vangelo di Dio lo stesso messaggio per noi oggi è lo stesso mezzo predicare non tecniche pre-evangelistiche di oggi di cui si parla nella missione aspettando che l'uomo possa essere più disposto ad udire il Vangelo ma predicare il Vangelo Dio usa la predicazione per condurre a salvezza fratelli e sorelle Dio risuscita i morti attraverso la proclamazione ma non solo predicò il Vangelo ma chiamò il ravvedimento e chiamò a riporre la fede in Cristo ecco come evangelizzare Gesù l'esempio per eccellenza chiamò al ravvedimento la necessità di chiamare gli uomini a confessare le loro iniquità a volerle abbandonare anziché mettere da parte questo aspetto nella speranza che l'uomo apre il proprio cuore siamo chiamati a predicare in modo sano chiamare al ravvedimento due imperativi non un invito ma esortazioni chi può beneficiare del Vangelo colui che si la vede e colui che ripone la totale fiducia in Cristo il pentimento e la fede sono due verità inseparabili inseparabili questa è stata la sua predicazione questo è il nostro compito come chiesa ma poi parla di questa chiamata al discepolato Gesù che chiama con autorità quattro discepoli quali rispondono lasciando ogni cosa seguendo Gesù questa chiamata che illustra che cosa illustra la chiamata ad essere discepoli di Cristo per tutti gli uomini infatti vorrei andare in Marco 8 che ho letto pochi minuti fa 834 qui parla la folla la folla che segue Gesù per essere guarita per avere benefici materiali come sappiamo Gesù disse alla folla se uno vuol venire dietro a me essere un discepolo rinunzi a se stesso prenda la sua croce e mi segua chi è il credente si parla di credenti oggi chi sono i credenti cosa vuol dire essere credenti vuol dire biblicamente essere discepoli seguaci di Cristo rinunciare a noi stessi prendere la croce disposti alla morte e disposti a seguire Gesù questo è il credente discepolo il ravvedimento e la fede non sono semplicemente dichiarazioni non è una promessa che l'uomo fa a Gesù è una preghiera fatta in un incontro evangelistico il ravvedimento e la fede si manifesta sapete come? con la risposta alla chiamata ad essere discepoli di Cristo il vero ravvedimento e la vera fede si manifesta quando siamo disposti a rinunciare a noi stessi a prendere la croce disposti alla morte a seguire Cristo costi quel che costi questo è il discepolo questo è il credente nato di nuovo in Cristo se questo non basta per evidenziare questa chiamata al discepolato vorrei leggere un ultimo brano Luca 14 Luca 14 ci ricorda quello che Gesù disse ulteriormente sempre la gente Luca 14 25 or molta gente andava con lui ed egli rivolto verso la folla disse se uno viene a me e non odia suo padre sua madre e la moglie i fratelli le sorelle e persino la sua propria vita non può essere mio discepolo e chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo chi di voi infatti volendo costruire una torre non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui dicendo quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare oppure qual è il re che partendo per muovere guerra un altro re non si sieda prima a esaminare se con diecimila uomini può affrontare colui che gli viene incontro con ventimila se no mentre quello è ancora lontano gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace così dunque ognuno di voi che non rinuncia tutto quello che ha non può essere mio dicevo qui non esorta ad odiare i genitori i figli ma a mettere Cristo al centro come priorità a tal punto che sembra che ci sia odio verso qualcuno non esorta ad odiare gli esorta ad amare come Cristo chiamato ma evidenzia che il discepolo mette Cristo al centro di qualsiasi cosa nella sua vita ecco la risposta a questa chiamata al discepolato ecco chi sono i credenti che si la vedono e che ripongono la fede in Cristo coloro che rinunciano completamente a se stessi che prendono la croce e seguono Gesù questo è quello che Gesù disse alle folle fratelli siamo noi chiamati a fare lo stesso a predicare il Vangelo di Dio di cui si parla nella scrittura affinché ci sia una risposta da parte di uomini e donne a quel Vangelo una risposta che evidenzierà un genuino ravvedimento la fede salvifica la fiducia totale in Cristo Gesù 3 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3